Il matrimonio di Diletta Leotta ha attirato l'attenzione di tutti sull'abito della sposa, ma oggi ci concentriamo su Loris Karius, lo sposo. Nato il 22 giugno 1993 a Bibera Kanderris, in Germania, Loris Karius è un calciatore professionista che milita nel campionato inglese. Figlio unico, è cresciuto con l'ispirazione del padre, ex campione di motocross. Il matrimonio tra Leotta e Karius è stato un evento VIP di risonanza mondiale, con una copertura mediatica che ha visto protagonisti non solo la coppia, ma anche numerosi ospiti illustri. Loris, conosciuto per la sua carriera calcistica e per la sua presenza sui social media, ha dimostrato una grande eleganza e carisma durante la cerimonia. Le nozze, celebrate con stile e raffinatezza, hanno evidenziato l'unione di due figure pubbliche di spicco, creando un connubio perfetto tra sport e spettacolo. Le foto di Loris hanno messo in luce non solo la sua avvenenza, ma anche la sua personalità e il suo legame profondo con Diletta, rendendo questo matrimonio uno degli eventi più memorabili dell'anno. Grazie. 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 Grazie.